Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Ballando con le stelle si prepara per l'edizione numero 17 della sua lunga storia. Tenendo lontana ogni forma di scaramanzia si cerca di apportare quelle novità in grado di suscitare ulteriore interesse del pubblico a casa. Nel frattempo il più chiacchierato dallo staff del dancing show del sabato sera ha annunciato che diventerà papà. Di chi si tratta? Ballando con le stelle ed il grande lavoro che l'attende per la preparazione della prossima edizione. Anche per i più scaramantici dallo staff del dancing show del sabato sera, l'edizione numero 17 non fa minimamente paura. Ma occorre lavorare, e tanto, per migliorare ulteriormente un prodotto televisivo che da 16 edizioni tiene incollati sui divani italiani milioni di telespettatori. La concorrenza è fortissima e si sa che occorre lavorare bene sui nomi di coloro che poi saranno protagonisti del programma accanto a Millie Carlucci. Quotidianamente spuntano nominativi che, a vario titolo, potrebbero entrare a far parte del team vincente della conduttrice di Sulmona e mentre impazza il toto nomi colui che al momento è il più chiacchierato dallo staff ha annunciato che diventerà papà. Chi è il futuro papà? Ballando con le stelle, ipotesi tante, certezze poche. Millie Carlucci è, al momento, principalmente al lavoro per trovare i nominativi giusti tra coloro che animeranno la gara di ballo del sabato sera, ovvero i ballerini, VIP. Al momento si conosce soltanto il nome di Iva Zanecchi. Ma i pensieri della bravissima conduttrice abruzzese non sono però rivolti soltanto alla VIP, list, ma anche ad eventuali cambi all'interno delle altre due componenti fondamentali del programma, ovvero il corpo degli insegnanti di ballo e la giuria. Se all'interno della storica giuria la presenza nella prossima edizione della giornalista Selvaggia Lucarelli è seguita da un punto di domanda, anche nel fondamentale gruppo degli insegnanti di ballo accanto ad un nome il punto interrogativo è davvero gigante. E proprio colui che sta tenendo sulle spine Millie Carlucci, ha appena annunciato una meravigliosa novità che lo riguarda. Presto diventerà padre.Ma chi è il questo importante personaggio di Ballando con le stelle? Auguri a Samuel Peron.La sua è davvero la classica rappresentazione di quella grande altalena che è la vita, dove dolori e gioie, lacrime e sorrisi salgono e scendono dandosi quasi la mano. Soltanto poche settimane fa aveva annunciato, tra le lacrime, la perdita della dorata mamma Gianna Ora, tra incontenibili sorrisi, Samuel Peron ha annunciato che la sua compagna Tania Bambaci attende un figlio da lui, come riportato da Fanpage. Hit.l'annuncio è avvenuto via social con la pubblicazione di una splendida foto della coppia con una didascalia che recita, la vita ha deciso di farci un regalo il più baregalo che potessimo desiderare. In un attimo sono stati spazzati via tutti quei dubbi che avevano portato la coppia, dopo sette anni vissuti insieme, a separarsi. Ma la separazione è stata soltanto temporanea ed ora, più innamorati che mai, danno l'annuncio più bello. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.